Il credente in Cristo è depositario di principi non negoziabili ed è chiamato a custodirli a motivo del continuo attacco ai quali sono soggetti, aggressioni sistematiche sferrate dalla nostra società moderna e anticristiana. La nostra vita deve essere governata da principi, infatti se i nostri principi sono allineati con la parola di Dio allora occorre mantenerli sempre, non possiamo conformarci in alcun modo al mondo e ai suoi sistemi. Avere dei principi non equivale affatto all'essere legalisti, il che rappresenta un gravissimo errore e una tentazione sempre presente nella Chiesa, ma piuttosto ad avere dei principi biblici ben fondati, il che significa essere conformi al progetto divino. Occorre inoltre guardarsi dal pericolo opposto al legalismo, datosi che in molti sono caduti nella licenza o nell'abuso della libertà cristiana in una forma di accomodamento al mondo e ai principi del mondo piuttosto che ai valori biblici, adattandosi così alle proprie esigenze e ai propri gusti. Ricordiamo che vi è una linea di demarcazione tra il mondo e la Chiesa, come sta scritto in prima Giovanni 2,15, non amate il mondo e questo amore per il mondo viene messo in contraposizione con amare Dio. Custodiamo pertanto i principi cristiani, decidiamo di custodire i valori appresi dalle sacre scritture attraverso la guida indispensabile dello Spirito Santo e non saremo mai smarriti.